Nonostante il covid, la Caritas di Avellino non rinuncia a celebrare il Natale e sceglie di farlo ricordando la figura di Monsignor Antonio Forte. In occasione del ventennale dell'apertura della casa di accoglienza a lui intitolata, la dioce si invita la comunità a manifestare la propria sensibilità attraverso quattro iniziative. Nel giorno dell'Immacolata si chiede di accendere una candela in memoria del Vescovo. Una messa sarà poi ufficiata il 13 dicembre. Il 20 dicembre si invita a devolvere il costo di un pasto di un posto letto ad un ipotetico povero, ospite della mensa dormitorio. Infine il 25 dicembre si chiede di accendere la luce del balcone di casa, quale segno di venuta del Salvatore. Un Natale che vogliamo dedicare a Monsignor Antonio Forte che nell'anno del giubileo del 2000 ha bolluto quella struttura, una struttura che testimonia una chiesa attenta ai bisogni soprattutto degli ultimi, degli invisibili. Una struttura che riesce e non si è mai fermata in questi 20 anni, neanche un giorno offrendo un pasto caldo, offrendo soprattutto un posto letto e una serie di servizi. L'abbiamo chiamata cittadella della carità ma il momento soprattutto adesso in occasione del ventennale della sua realizzazione è ricordare padre Antonio che ha avuto questa idea e soprattutto questo impegno per questa chiesa di Avellino. Il direttore della Caritas traccia anche il profilo dei nuovi poveri, molti dei quali diventati indigenti a causa del covid e delle sue conseguenze economiche. Adesso sicuramente ci sono ceti medi che sono dopo nove mesi di blackout in situazioni veramente drammatiche. Quello che ci preoccupa e sul quale stiamo lavorando insieme anche ad altri organismi è mettere su, un progetto che ci vede insieme per fronteggiare queste nuove povertà che a volte non sono neanche di natura economica ma che chiedono interventi, supporti, chiedono soprattutto di essere aiutati a fronteggiare questo momento.